Musica Venerdì 23 febbraio 2024, buongiorno, ben ritrovati dalla redazione di Teleregione in apertura della nostra rassinia stampa. Abbiamo un servizio, il mare come risorse, le concessioni demaniali con l'incognita della direttiva Bolkenstein. Questi i temi dell'incontro organizzato a Pescara da Fratelli d'Italia, ospite il governatore Marco Marsilio e l'eurodeputato Nicola Procaccini, il servizio di Valentina Cialante. Il tema delle concessioni demaniali e marittime sta generando caos e incertezze. Da una parte il dovere di garantire la libera concorrenza e quello di porsi in linea con la nota direttiva Bolkenstein che ha preso il nome dal commissario europeo che ne è stato fautore e ideatore, varata nel 2006. Dall'altro gli imprenditori del mare che hanno investito in genti cifre negli stabilimenti e che temono di vedere andare in fumo sforzi e lavoro. Fratelli d'Italia ne ha discusso a Pescara nell'auditorium Petruzzi con i parlamentari Sigismondi e Testa, con i referenti locali del partito, col presidente della regione Marsilio e con l'euro parlamentare Nicola Procaccini, copresidente del gruppo dei conservatori europei. In Abruzzo sono 144 i chilometri di costa e sulla base dei dati resi noti da Confcommercio su 33 insistono concessioni, che in totale sono 700 in scadenza nel 2033. Come è noto la direttiva è nata tra l'altro per eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento, ma il tema delle concessioni pubbliche è divenuto un terreno di scontro politico in merito Procaccini e Perentorio. Stiamo con i balneatori. Tutti coloro che hanno attività su Demanio Marittimo spesso hanno realizzato infrastrutture in anni e anni di lavoro e quindi noi siamo schiati al loro fianco e ci stiamo battendo a tutti i livelli, ma soprattutto su Bruxelles, affinché venga riconosciuta la particolarità italiana, che è anche simile a quella spagnola o greca, del tutto diversa da quella della Scandinavia. E quindi insomma è una tipicità che va tutelata di ciò che stiamo facendo in ogni sede. E andiamo a Campobasso, il candidato sindaco della coalizione progressista è Maria Luisa Forte, come anticipato la settimana scorsa, la coalizione costituita da Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra Socialisti, Movimento per l'Equità Territoriale, ha individuato nel provveditore agli studi di Campobasso la figura di sintesi da spendere come candidato la carica più alta di Palazzo San Giorgio. La Forte ha dato la sua disponibilità nei prossimi giorni, prevista la presentazione alla città. E poi la nostra sinistampa, come sempre partendo dal regionale molisano Primo Piano Molise, nell'apertura Campobasso e il Campolargo si affida a Maria Luisa Forte, la coalizione progressista trainata da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, converge sulla direttrice dell'ufficio scolastico provinciale, profilo di riconosciute qualità umane e professionali, sicure competenze amministrative e una chiara condivisa visione di città coerente con il nostro progetto. Poi ancora Termoli, Clima Rovente sindaco, tutti contro tutti, Patrizia Manzo denuncia l'assenza di dibattito, resta il Campopiano avverte, basta fuga in avanti, Laura Venitelli chiede collegialità nelle decisioni. Per le altre notizie, Riscione, lavori fermi e disagi interminabili, caso in Parlamento, primi anni del Movimento 5 Stelle, fa depositare un'interrogazione rivolta al ministro Salvini affinché faccia chiarezza missiva anche al prefetto Lattarulo. Le altre notizie, la nomina Manfredi Selvaggia alla Corte dei Conti Europea, ce l'occhè della Commissione, botte in risposta, top manager fa negli attacca, Roberti non le manda a dire. Poi hanno giudiziario, sanità, contenziosi e amministrativi da record rispetto alla media nazionale. Nel taglio laterale, dentro la notizia, San Polo, scontro tra furgone e auto sulla statale, il mezzo cappotta utilitaria nella cunetta. Poi Campobasso, extracomunitari e droga, carabinieri di nuovo in azione nel centro storico. Nel fondo pagina, l'intesa, ospitare famiglie migranti contro lo spopolamento, Pietrabbondante segue l'esempio di Vasto Girardi. Poi nel taglio laterale, il punto a firma di Giuseppe Biscotti, autonomia differenziata e autonomia delle differenze, il taglio alto dedicato allo sport. Campobasso, tutti uniti, il direttore generale Colalillo lancia il grido di battaglia per il rush finale. Termoli, mister Carnevale, strida i suoi, prestazione indecorosa contro il Sora. Poi Vasto Girardi, incontro di notarisco anticipato domani alle 14.30. Ancora le testate regionali, questa volta le abruzzesi con la prima pagina del centro. Nel taglio alto la politica, Marsilio D'Amico sfida dei sondaggi per il Partito Democratico li separa a meno di un punto, per il centro-destra la differenza è di sei lunghezze. Le altre notizie in quest'ora, ecco il piano di sicurezza, Pescara, Solimene in città da 22 giorni, in azione anche poliziotti in moto. Poi la cronaca nel centro pagina, la tragedia di Ortona, la famiglia viveva a Montesilvano, fratellini ha negati il PM, chiede 4 condanne a 5 anni. Ancora la cronaca nel taglio laterale, 3 medici sotto inchiesta, sciocca Tortoreto, muore 38 anni dopo due interventi per perdere peso. Paura a Montesilvano, Pitbull azzanna due donne in strada e uccide un cane. Le altre notizie? Cade dal terzo piano. Quattordicenne grave, dramma vasto, trasportato nella notte all'ospedale di Pescara, è in prognosi riservata per ancora gli aiuti dello Stato, nuovi fondi per sanità, ricostruzione e turismo. Nel fondo pagina, lo sport Serie C, incontro con i giocatori Zeman, siete in buone mani, l'allenatore Boemo saluta il Pescara, al via Leera a Buccaro, Pescara, strada parco, il filo bus si muove con la scorta, poi ancora il mondo della cultura, piange, luci a spadano. Ancora le testate regionali abruzzesi, questa volta con la pagina d'Abruzzo del Messaggero, la cronaca nel taglio alto, Pitbull uccide i cane e ferisce due donne, panico a Monte Silvano, l'animale fuori controllo era fuggito dal giardino, Pescara, strada parco, primo transito del filo bus per le prove tecniche. Poi nel centro pagina, terrorismo, arrestato un palestinese, l'Aquila è titolare di una pizzeria, la polizia l'ha fermato nella sua casa di San Giacomo, Israele, ne ha chiesta l'estradizione, è coinvolto in attentati, ricorso in Cassazione. Poi lo sport nel centro pagina, Pescara Calcio, le dimissioni dopo l'intervento, l'addio di Zeman costretto a questa scelta, le foto poi dell'incontro di ieri durante la seduta di allenamento. Le altre notizie, nell'Istituto di Pescara è organizzato un corso per diventare istruttori, il golf in carcere per riabilitare i detenuti, questo nel fondo pagina, poi nel taglio laterale accordo storico nel settore artigiano abruzzese, welfare e sicurezza, l'intesa valida fino al 2028, coinvolgerà migliaia di aziende ed addetti ai lavori. Poi nel taglio alto Pescara, Barberini Lascia, venduta la catena di negozi di ottica, terra mano, ex manicomio e teatro, scontro sui fondi spariti, e poi ancora l'Aquila, nuclei di cure e battaglia, occupata la sede della ASL. Dalle testate regionali, molisani ed abruzzesi, diamo adesso uno sguardo alle prime pagine nazionali, come sempre partendo con la prima del Corriere della Sera. Nel centro pagina, Russia, Biden insulta Putin, scontro con il Cremlino, mostrato alla madre il corpo di Navalny, ricatto sulla sepoltura, poi le altre notizie, riforma Fratelli d'Italia e Forza Italia, bocciano l'emendamento leghista, terzo mandato, il no, spacca la maggioranza, il caso Veneto con Zaia, diviso anche il PD, poi ancora il giallo, la donna poteva alimentarsi solo con omogenizzati, ha ucciso la zia per eredità con un piatto di cibo proibito, aveva 12 anni, dimesso dall'ospedale, muore un baby calciatore, poi ancora scossone all'Agenzia del Farmaco, paludi, emissioni e proteste. Ancora le testate nazionali, questa volta con la prima pagina della Repubblica. La crisi del terzo mandato, il titolo nel taglio alto, maggioranza divisa, il centro-destra si spacca, Fratelli d'Italia e Forza Italia affossano l'emendamento della Lega sui governatori, Miloni non è nel programma, Salvini di Lancia non finisce qui, la battaglia la rifarremo in aula, i leghisti ipotizzano ritorsioni sul voto in Sardegna, Movimento 5 Stelle e PD contro, la rabbia di Bonaccini traditi i partiti. Poi nel taglio laterale Mappamondi, Navalni, la madre vede il corpo, vogliono fare i funerali segreti. Dalla Repubblica uno sguardo alla prima pagina del messaggero, PNRR ok, ma ora acceleriamo, nel taglio alto, Meloni sprona il governo sull'utilizzo dei fondi, terzo mandato non era nel programma, ma in Senato si dividono il centro-destra e il Partito Democratico fazzolari, disinformazione russa contro l'Italia. Le altre notizie, la moglie del dissidente alla Casa Bianca, Navalni, la madre vede il cadavere, Biden alza i toni, gli insulti a Putin, poi il congresso di Forza Italia, il futuro del partito, che non voleva essere un partito. Poi ancora a scuola, stop e cellulare anche per i compiti, patente sospesa, ma multe meno salate, perché guida usando il telefono. Nel centro pagina lo sport, Europa League, Zeresky segna il penalti decisivo, 5-3, Sarri e Co invece 0-2 pesante, Svilar pareggia, o meglio, Pararigori, la Roma passa, Lazio ritrovata, il Toro si inchina. Nel taglio medio, Sapienza, dossier shock, moleste studentesse, 13 casi nel 2023, la rettrice Polimeni denuncia in Parlamento, stalking e aggressioni sessuali di Prof. e tutor dalla Repubblica, o meglio, dal messaggero, uno sguardo alla prima pagina del tempo. Nel taglio alto, terzo mandato, il PD si fa male da solo, bocciata la proposta leghista, per rieleggere i governatori, Salvini non tocca il governo, ma il voto contrario in Senato fa implodere i dem, buon accennifurioso conto Schlein, l'area del Presidente Emiliano, disappunto per gli impegni non rispettati da Elipo. Ancora lo sport, Feyenoord ok e calci K.O. e calci di rigore, Roma agli ottavi di Europa League. Le altre notizie, guida col cellulare, patente sospese, nuovo codice della strada, prevede lo stop per 15 giorni. Poi nel fondo pagina, duello Mosca-Washington, Biden insulta Putin, dura reazione dei russi dal tempo, uno sguardo alla prima pagina del Fatto Quotidiano. Nel centro pagina, ancora la questione del terzo mandato, Fratelli d'Italia e Forza Italia votano contro il Movimento 5 Stelle, Dem, i poltronissimi fanno esplodere Destra e Partito Democratico. Salvini e Truzzo, la Lega rimane da solo in aula e ora minaccia gli alleati in Sardegna. Ma Bonaccini attacca, Schlein e i sindaci Dem annunciano la battaglia. Nel taglioato, inserto speciale, Riccardi, la guerra può diventare eterna, Ucraina, due anni di inutile strage e Meloni e Co. buttano altri soldi. Dal Fatto Quotidiano, uno sguardo alla prima pagina del manifesto. Nel centro pagina, barra d'appalto, si muore nei grandi impianti come sui cantieri. Dopo la strage di Firenze, ieri un operaio ha perso la vita nello stabilimento Stellantis, in provincia di Avellino. Anche lui era in appalto, vittima di affidamenti a ribasso esterno, in una fabbrica dove lavorava da 20 anni. Poi ancora sul terzo mandato, Salvini finisce K.O. Al Senato la maggioranza si spacca, protestano anche gli amministratori del Partito Democratico. Nel fondo pagina, welfare europeo, l'Unione fa la guerra a colpi di Eurobond, poi Spagna, solo si e si, quattro anni e mezzo a Dani Alves, e stupro. Israele e Palestina, Nuova Strada, taglia Gaza a metà. Dal manifesto uno sguardo alla prima pagina della verità. Nel taglio alto, caso Aifa, Palusi di Mette attacca, appena confermato sbatte la porta, mandato di un anno, il governo mi umilia. Le altre notizie, dove punta l'inchiesta per frode fiscali, verbali e documenti che svelano il miliardo nascosto degli agnelli, i PM avrebbero trovato oltre 900 milioni di fondi, schermati, riconducibili alla famiglia. La stessa cifra, spunto in un'indagine milanese, grazie a un fax dimenticato e a un superstite. Ma il no alla rogatoria bloccò tutto. Le altre notizie, imballaggi green e salute, le trappole dell'Unione europea da qui al vuoto, la presidenza di turno belga forza l'agenda della Commissione, mentre la von der Leyen finge di cambiare tutto per fare il bis. Dalla verità, uno sguardo al quotidiano, economico del sole 24 ore. Nel taglio alto, sette raid israeliani sui profughi a Raffa, mosche a rasal suolo, notte di bombardamenti, 48 morti, metà donne e bambini, due anni di conflitto, piano di pace dell'Ucraina con l'Unione europea per rafforzare la sicurezza. Per ancora l'obiettivo russo, Medvedev, l'operazione speciale finirà con la conquista di Kiev. Le altre notizie PNRR per le opere speso solo l'11%, la reazione del governo al 2023, uscite per 45,5 miliardi, ma il 26,7 assorbiti dai crediti di imposta automatici. Fitto, cifre sottostimate, buchi nel censimento MEF, sfida sul PIL di quest'anno. Per ancora Tokyo, Europa e Wall Street, corsa da record delle borse. Nel centro pagina, il campo in campo, il super miliardario Ambani, l'India è pronta a lanciare il suo chat GPT. Poi nel taglio laterale, panorama politica, terzo mandato, fratelli d'Italia, forse d'Italia dicono no, alla Lega Comuni e Regioni. In trincea, in chiusura come sempre uno sguardo al quotidiano sportivo della Gazzetta dello Sport, in gran parte dedicato agli appuntamenti di ieri sera di Europa League, Passano Milan e Roma, Europa League perde 3 a 2, ma va agli ottavi, Milan sempre serve di più, che paura a Rennes e all'arma di difesa e oggi alle 12 rischia di pescare Liverpool e Bayer Leverkusen, poi la Roma che elimina ancora una volta il Feyenoord ai rigori 5 a 3, 11 metri di gloria, Svilar fa felice la Roma. Le altre notizie, tra Scudetto e Coppa, nessuna come l'Inter nel 2024 ha solo vinto in Zaghi, può sfidare alla pari tutte le big, poi ieri si è recuperata la partita di Serie A tra Lazio e Torino, o meglio tra Torino e Lazio, 0-2 nel recupero, al 20-45, al via la 26esima, il Torino gioca, la Lazio segna oggi Polonia per la Champions, appena in fondo pagina, la missione della Juventus, Allegri per il secondo posto, Scatena, Vlaovic e Rabiot. Prima di chiudere, diamo lettura anche al nostro palinsesto. ore 11 zona sport, 13 slow tour, 14 la nostra informazione in diretta con il telegiornale, 16 e 15 zona sport, 18 e 30 Piazza Morise, Colle a Vortuno, 19 e 30 la nostra informazione in diretta con il telegiornale, alle 21 conto alla rovescia, alle 23 l'ultima edizione del nostro telegiornale. E non mi resta che salutarvi, vi ringrazio per averci scelto, a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.